Dagon è una delle divinità più enigmatiche dell'antichità, la cui venerazione è testimoniata da iscrizioni e reperti che risalgono almeno al III millennio a.C. Si ritiene che la sua figura fosse venerata inizialmente dai Cananei, per poi essere assimilata dai Filistei, un popolo dalle origini misteriose che occupava la costa meridionale della Palestina. Dagon era solitamente associato alla fertilità, all'agricoltura e all'abbondanza dei raccolti, ma in alcune rappresentazioni emerge anche un suo legame con l'elemento acquatico, portando alcuni a ritenere che la sua figura avesse un forte connotato marino. Questo aspetto ne fa un candidato perfetto per speculazioni che lo vedono come una presenza aliena dalle sembianze anfibie o acquatiche. Nei testi ugaritici e nelle iscrizioni trovate ad Ebla, una delle più antiche cittastato della Mesopotamia, Dagon appare come una figura molto influente, al punto da essere rappresentato come il padre degli dèi. Anche nei testi di Mari, un'antica città sulla sponda orientale dell'Eufrate, Dagon è descritto come una divinità protettrice e viene invocato per garantire il successo nelle guerre e abbondanza nei raccolti. Per gli assiri e i babilonesi, invece, Dagon era visto come un dio della fertilità e del grano, ma sempre con un certo distacco dalle altre divinità più popolari, come Marduk. Un elemento interessante è la presenza di templi dedicati a Dagon in diverse città della Palestina e della Siria, testimonianze che indicano come il suo culto fosse particolarmente radicato in queste aree. Due dei templi più noti si trovavano a Gaza e ad Ashdod, dove la venerazione di Dagon era particolarmente forte tra i filistei. Questo popolo, noto per la sua natura guerriera, si rivolgeva spesso a Dagon per la protezione e la vittoria nei combattimenti. Anche nella Bibbia, Dagon è citato in vari contesti, a testimonianza della sua importanza per i filistei e della percezione che di lui avevano anche gli israeliti, i quali lo consideravano una sorta di nemico divino. Il culto di Dagon presentava caratteristiche che si distinguono dalle tradizionali divinità della Mesopotamia e del Levante. È interessante notare che il nome Dagon è spesso associato alla parola Dag, pesce in ebraico, e molti studiosi ipotizzano che il dio fosse venerato come una sorta di figura anfibia. Alcune raffigurazioni lo presentano infatti come una creatura metà uomo e metà pesce, rendendolo in qualche modo simile alle divinità sumere come Enki, anch'esse legate alle acque e alla sapienza. Secondo alcuni studiosi, l'aspetto anfibio di Dagon potrebbe rappresentare un riferimento simbolico alla sua natura di dio del grano e delle risorse. La fertilità e la pesca erano infatti essenziali per le popolazioni costiere, e Dagon simboleggiava proprio questa fusione tra la terra fertile e il mare, elementi cruciali per la sopravvivenza della società dell'epoca. Tuttavia, questo simbolismo acquatico, unito alla sua rappresentazione antropomorfa anfibia, ha portato alcuni a chiedersi se dietro Dagon si cieli una figura non originaria della Terra. Le raffigurazioni di Dagon come un essere anfibio, unite alla sua importanza come figura padre tra le divinità, hanno portato alcuni teorici degli antichi astronauti a suggerire che Dagon possa rappresentare un'entità extraterrestre, possibilmente appartenente a una civiltà acquatica. Questa ipotesi è rafforzata dal fatto che numerose culture del vicino Oriente veneravano dei consembianze simili a pesci o anfibi, suggerendo un archetipo comune a molte popolazioni antiche. Secondo questa teoria, il culto di Dagon potrebbe essere il risultato di incontri tra popoli antichi e visitatori di altri mondi, poi interpretati come dei. L'immagine di Dagon che ci è giunta si basa in gran parte su rappresentazioni artistiche e descrizioni che lo ritraggono con tratti anfibi, a volte come una creatura metà uomo e metà pesce. Una delle raffigurazioni più note di Dagon lo mostra con il busto umano che si unisce a una coda di pesce, una figura che trova paralleli con altre divinità e creature mitologiche del passato. Questo aspetto iconografico non è isolato. Figure ibride simili erano comuni anche presso i sumeri, dove divinità come Oannes e A venivano rappresentate con sembianze semi-anfibie. Tuttavia, la rappresentazione di Dagon tra i filistei e i cananei si distingue, poiché viene spesso presentato come una divinità esclusivamente protettrice e paterna, in grado di intervenire nei momenti di crisi. Questa iconografia ha portato molti studiosi e appassionati di misteri a chiedersi quale fosse il reale significato di queste sembianze. Si trattava di una semplice metafora dell'unione tra il mare e la terra, ovvi era un messaggio più profondo, legato a una visione cosmica e, forse, al contatto con esseri provenienti da altre realtà. Nelle culture antiche, l'immagine di un essere ibrido con caratteristiche sia umane che animali rappresentava spesso una connessione tra il mondo materiale e il mondo spirituale. La figura di Dagon, mezzo uomo e mezzo pesce, sembra quindi incapsulare la relazione simbiotica tra gli elementi naturali che garantivano la sopravvivenza delle società del vicino oriente, l'agricoltura e la pesca. Tuttavia, la sua rappresentazione poteva avere anche un significato esoterico, in cui il pesce, simbolo dell'ignoto e del mistero delle acque, evocava la presenza di conoscenze segrete e di poteri che trascendevano la comprensione umana. L'aspetto ibrido di Dagon ha spinto molti ricercatori di teorie alternative a considerare che questa divinità potesse essere una sorta di rappresentazione stilizzata di una tecnologia avanzata o di un essere alieno. Alcuni ipotizzano che l'immagine di Dagon metà uomo e metà pesce possa rappresentare una sorta di armatura, o tuta, progettata per permettere a una creatura aliena di vivere sulla Terra, che anticamente avrebbe potuto essere interpretata come un essere anfibio. Si tratta di un'idea che potrebbe sembrare fantascientifica, ma che appare in altri miti. Figure divine che emergono dal mare, come Oannes in Mesopotamia e Nommo tra i Dogon in Africa, hanno anch'esse rappresentazioni anfibie che fanno pensare alla possibilità di incontri tra esseri umani e creature marine di origine esotica. Secondo questa teoria, Dagon sarebbe stato un visitatore proveniente da un mondo acquatico o che richiedeva condizioni atmosferiche particolari. Il simbolismo del pesce si sarebbe quindi cristallizzato nella coscienza culturale antica come un riferimento alla sua natura straordinaria e non terrestre. Supporto a questa ipotesi si trova anche nelle descrizioni bibliche, dove Dagon appare come una figura temuta e rispettata, e viene rappresentato come un simbolo di potere al punto da suscitare reazioni violente nei confronti dei popoli israeliti che si opponevano alla sua venerazione. La somiglianza tra Oannes e Dagon suggerisce che vi fosse una continuità culturale tra le due figure, o che entrambe possano essere state reinterpretazioni di un'antica figura di insegnante o portatore di conoscenza. Tra i Dagon, una tribù africana del Mali, si narra di una divinità anfibia chiamata Nommo, un essere cosmico che sarebbe disceso sulla Terra provenendo da Sirio, una stella che, secondo i Dagon, si trova nella parte profonda del cosmo. Questi racconti, combinati con le rappresentazioni di Dagon, hanno spinto alcuni studiosi a suggerire che esista un archetipo alieno ricorrente nelle religioni antiche, un'entità anfibia che si presentava come divinità o portatrice di saggezza, attraversando il tempo e le culture. La teoria degli antichi astronauti, popolarizzata negli anni Sessanta e Settanta da autori come Eric Vondanich e Nezekaria Sitchin, propone che civiltà avanzate extraterrestri abbiano visitato la Terra in tempi remoti, influenzando lo sviluppo culturale, religioso e tecnologico di vari popoli antichi. Questi contatti sarebbero stati successivamente interpretati dai popoli dell'epoca come apparizioni di dei, creando quindi un pantheon di figure divine che, in realtà, erano esseri alieni venuti dallo spazio. Dagon, con il suo aspetto antropomorfo anfibio e il suo ruolo prominente nella religione dei Filistei e Cananei, si presta naturalmente a questo tipo di interpretazione. Secondo queste teorie, Dagon potrebbe essere stato una di queste entità extraterrestri, una figura aliena venerata dagli antichi come divinità. L'aspetto ibrido di Dagon, combinato con la sua presunta connessione con l'acqua, viene interpretato come un indizio della sua natura non terrestre, forse come un essere proveniente da un pianeta acquatico o da un ambiente non compatibile con quello terrestre. La rappresentazione di Dagon come divinità anfibia ha portato molti sostenitori della teoria degli antichi astronauti a ipotizzare che potesse essere un essere extraterrestre proveniente da un ambiente marino o subacqueo. Alcuni teorizzano che possa trattarsi di un essere venuto da un pianeta oceanico, dove la vita e l'evoluzione si sono sviluppate sotto la superficie dell'acqua. Questi esseri, secondo i teorici, avrebbero sviluppato una tecnologia avanzata che gli avrebbe permesso di esplorare e colonizzare altri pianeti, inclusa la Terra. Il simbolismo dell'acqua e del mare è spesso presente nelle narrazioni di incontri con esseri soprannaturali o extraterrestri. Nelle tradizioni mesopotamiche, ad esempio, il dio Oannes, anch'esso descritto come una creatura metà uomo e metà pesce, emergeva dal mare per insegnare agli uomini l'arte dell'agricoltura, dell'architettura e della scrittura. Questo parallelismo ha portato alcuni studiosi a considerare che Dagon possa essere stato parte di una stessa missione di esseri alieni, il cui scopo era quello di impartire conoscenze e avanzare la civiltà umana. Alcuni teorici ipotizzano che l'aspetto acquatico di Dagon non fosse solo un elemento culturale o simbolico, ma piuttosto una descrizione reale di una tuta spaziale o di un apparato respiratorio che permetteva a questi esseri di sopravvivere sulla Terra. L'ipotesi è che tali esseri fossero dotati di una tecnologia avanzata che veniva interpretata dagli antichi come tratti sovrannaturali o divini. Le rappresentazioni di Dagon come figura antropomorfa anfibia sarebbero quindi una testimonianza di questi avvistamenti di visitatori con caratteristiche sconosciute e soprannaturali. Una delle interpretazioni più affascinanti della teoria di Dagon come presenza aliena è l'idea che il suo culto rappresenti un messaggio lasciato da una civiltà extraterrestre. Questa teoria si basa sull'ipotesi che, così come gli antichi monumenti e simboli astronomici potrebbero rappresentare una conoscenza trasmessa da civiltà avanzate, anche i culti religiosi potrebbero avere una base simile. Secondo questa visione, Dagon e altre divinità anfibie come Oannes rappresenterebbero non solo dei portatori di conoscenze, ma anche figure che incarnavano valori e norme di una civiltà superiore, che i popoli antichi avrebbero interpretato come divinità benevole. Alcuni studiosi delle teorie ufologiche suggeriscono che Dagon possa essere stato una sorta di ponte tra il mondo degli uomini e il mondo extraterrestre. Il suo culto, infatti, rispecchia diversi elementi che potrebbero indicare una sorta di preparazione per un ritorno o una futura comunicazione con i discendenti di questi esseri alieni. I templi dedicati a Dagon in Palestina, per esempio, erano considerati luoghi di potere e protezione, nei quali si trovavano reperti e simboli che oggi potrebbero suggerire tecnologie avanzate o conoscenze scientifiche al di là delle capacità umane dell'epoca. Uno dei punti più citati dai sostenitori delle teorie aliene è la Bibbia stessa, in cui Dagon viene descritto come una figura potente e temuta. Nelle scritture, Dagon è menzionato più volte, ma uno degli episodi più famosi è quello in cui l'arca dell'alleanza, portata nel Tempio di Dagon dagli israeliti, provoca la caduta della statua del Dio, che si spezza davanti a essa. Alcuni interpreti leggono questo episodio come un confronto tra due potenze superiori, l'una rappresentata dall'arca e l'altra dalla figura aliena di Dagon. Secondo questa lettura, Dagon sarebbe stato visto dai filistei come una forza di origine superiore, capace di interagire con il mondo fisico in modi straordinari. La caduta della sua statua davanti all'arca potrebbe rappresentare un messaggio allegorico o simbolico di conflitto tra due civiltà, una terrestre e l'altra extraterrestre, o addirittura una rivalità tra entità di diversa provenienza. Inoltre, alcuni interpreti leggono la frattura della statua di Dagon come una rappresentazione di una tecnologia che si spegne o si disattiva in presenza di un'altra tecnologia avanzata, come quella dell'arca. Oltre ai testi biblici, anche alcune iscrizioni e artefatti trovati nei templi di Dagon, specialmente ad Ashdod e Gaza, sono stati oggetto di interpretazioni speculative. Alcuni archeologi alternativi sostengono di aver trovato in queste strutture simboli che richiamano elementi tecnologici, come figure che potrebbero essere interpretate come antenne, schermi o apparati di trasmissione. Seppure non esistano prove scientifiche a supporto di queste affermazioni, tali interpretazioni continuano a suscitare interesse e a stimolare la ricerca di prove di un possibile messaggio alieno lasciato nei templi di Dagon. La figura di Dagon, nel contesto delle teorie sugli antichi astronauti, diventa quindi un punto d'incontro tra mitologia, religione e speculazione scientifica. La sua rappresentazione come divinità anfibia e la sua iconografia ibrida, combinate con le descrizioni bibliche e i ritrovamenti archeologici, offrono molteplici spunti per interpretarlo come una presenza aliena venerata dai filistei e dai popoli del vicino Oriente. Sebbene non esistano prove concrete per confermare questa ipotesi, il fascino che Dagon esercita risiede proprio nella possibilità che questa divinità sia stata una sorta di ambasciatore di un'altra civiltà. Un'entità che ha lasciato tracce culturali e religiose in grado di sopravvivere nei millenni. Le domande rimangono aperte. Dagon era davvero una divinità della fertilità, simbolo dell'unione tra il mare e la terra, o rappresentava qualcosa di molto più complesso e misterioso? La sua immagine ci racconta di un culto religioso, o è l'eco di un incontro con esseri venuti dallo spazio? Dagon, con il suo aspetto anfibio e il suo mistero, ha trovato una nuova vita nella letteratura e nell'arte moderna, diventando una figura simbolica per narrazioni legate a entità extraterrestri e a culti misteriosi. Uno degli esempi più celebri è la sua comparsa nei racconti di H.P. Lovecraft, maestro della letteratura horror cosmica, che ha contribuito a consolidare Dagon come archetipo della divinità aliena. Nel suo racconto breve Dagon, 1919, Lovecraft descrive un essere colossale e acquatico che sembra provenire dalle profondità dello spazio e del mare, un'entità antica che sfida la comprensione umana e incarna un terrore primordiale. In questo racconto, Lovecraft presenta Dagon come una creatura che emerge dalle profondità marine, richiamando l'immaginario di una divinità anfibia che osserva l'umanità da un piano parallelo o sconosciuto. Questa interpretazione ha avuto un'influenza duratura, contribuendo a inserire Dagon e altre divinità marine in un contesto cosmico, in cui il mare simboleggia sia l'ignoto dell'oceano terrestre sia lo spazio esterno. Da allora, Dagon è apparso in numerose opere della cultura popolare, rappresentato come un essere antico e alieno che governa mondi oscuri e acquatici. Dagon ha avuto anche un impatto significativo su alcuni movimenti spirituali e culti contemporanei, in particolare su quelli che si ispirano all'esoterismo e alla filosofia degli antichi dei alieni. Per alcune correnti moderne, Dagon non è soltanto una figura mitologica, ma una chiave verso una conoscenza ancestrale che collegherebbe l'umanità con antiche civiltà extraterrestri. Gruppi ispirati alla mitologia lovecraftiana e alle teorie sugli antichi astronauti considerano Dagon una manifestazione di un'intelligenza superiore o di una saggezza aliena che, se compresa, potrebbe svelare i segreti della creazione e delle origini umane. Questi culti e movimenti traggono ispirazione dal simbolismo di Dagon, vedendo nella sua immagine ibrida un ponte tra la conoscenza occulta e l'evoluzione spirituale. La figura di Dagon diventa così un simbolo di qualcosa che va oltre la semplice religione, un'entità che rappresenta il contatto con dimensioni o intelligenze non umane. Per i seguaci di tali movimenti, la venerazione o il rispetto per Dagon e altri dei anfibi del passato è vista come un modo per connettersi con un patrimonio dimenticato di conoscenze avanzate e verità nascoste. Dagon ha avuto un impatto duraturo anche nella cultura dei media, in particolare nei giochi di ruolo e nei videogiochi, dove è spesso rappresentato come un'entità sovrannaturale o aliena che sfida i protagonisti. Nelle serie di videogiochi come The Elder Scrolls, Dagon appare come un potente principe daedrico, una creatura extradimensionale e distruttiva che incarna forze soprannaturali e che richiama l'archetipo del Dio che trae forza dagli elementi naturali e dal caos. Questa rappresentazione riflette una continua interpretazione moderna della divinità, che trasforma Dagon in una figura oscura e misteriosa, legata a mondi sotterranei e segreti. Il suo ruolo nei giochi e nella cultura popolare dimostra come la figura di Dagon sia stata reinterpretata e adattata alle esigenze narrative del pubblico moderno, mantenendo comunque un legame con l'archetipo originale della divinità acquatica e aliena. Anche in altri contesti, come nei fumetti e nei film, Dagon viene spesso rappresentato come una presenza mistica e inquietante, un guardiano o distruttore di un antico sapere o potere. Il continuo interesse per Dagon e la sua rappresentazione come divinità aliena o soprannaturale suggerisce che questa figura racchiuda un simbolismo universale che continua a risuonare nella cultura umana. La sua immagine è stata rielaborata in modo tale da rappresentare il mistero cosmico, il terrore dell'ignoto e l'attrazione per ciò che giace oltre la comprensione umana. Dagon incarna il fascino e la paura per l'idea di esseri che potrebbero essere esistiti prima dell'umanità o provenire da dimensioni parallele o mondi remoti. La persistenza dell'archetipo di Dagon, infatti, sembra riflettere un bisogno umano di esplorare il concetto di entità superiori o di civiltà aliene che possano avere influenzato il corso della storia. In questo senso, Dagon è più di una semplice divinità antica, rappresenta un modello di conoscenza e mistero, un archetipo che ha attraversato millenni e continua a essere reinterpretato in chiave moderna. Dagon è quindi un simbolo di come le civiltà del passato, attraverso la mitologia e la religione, abbiano cercato di comprendere e spiegare ciò che non potevano controllare o comprendere appieno. In sintesi, l'eredità culturale di Dagon va ben oltre il suo ruolo nel pantheon dei Filistei e Cananei. Attraverso la letteratura, la cultura popolare e i culti moderni, Dagon è diventato un simbolo della connessione tra l'uomo e l'ignoto, un mistero antico che ci spinge a chiederci se le divinità che veneriamo siano davvero solo frutto della nostra immaginazione o possano celare un passato di contatti con entità non terrestri. Il suo aspetto anfibio, il simbolismo legato all'acqua e l'associazione con conoscenze superiori mantengono viva l'idea che dietro le maschere degli dèi del passato possa nascondersi qualcosa di più. Un messaggio lasciato da civiltà sconosciute.